Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi sabato 27 maggio. Quali sono i temi fondamentali dei giornali? Io partirei da un tema che ad esempio su Repubblica non è neanche in prima pagina. Non c'è una notizia in prima pagina, parla dei voucher, parla del G7, parla di Agassi, ma non c'è neanche una notizia in prima pagina sul fatto che ieri sono stati trucidati 30 cristiani come fosse al Colosseo. Avete presente? Quando c'era il Colosseo, venivano messi all'interno del Colosseo i cristiani e poi venivano aperte le gabbie e venivano uccisi i cristiani indifesi. La stessa cosa è avvenuta ieri. Basta leggere, direi, il Corriere lo mette in prima pagina, Avvenire ci apre, il Giornale, Libero ci aprono. Basta capire esattamente, basterebbe la cronaca, cioè basterebbe che... Alessandro sei un cornuto. Basterebbe leggere la cronaca di quello che è avvenuto ieri. Lo fa un bene l'avvenire, lo fanno anche altri giornali. E' successa la seguente cosa. C'erano una serie di pellegrini che volevano andare sotto al Cairo in pellegrinaggio, in una chiesa copta cristiana. Si sono messi sul pulman, erano una serie di macchine. A un certo punto escono dall'autostrada, vanno su una strada sterrata. In quella strada sterrata non prendono i telefonini. Ci sono tre subneri, escono dei tre subneri dei miliziani dell'Isis, salgono sopra questo pulman di cristiani indifesi. Alcuni dormivano, alcuni mangiavano, stavano andando a pregare, non stavano andando a fare altro in Egitto. Sono armati fino ai denti, chiedono a loro di recitare il Corano e chiedono di convertirsi. Così dice il fondo dell'avvenire. Non si convertono, come esattamente i cristiani all'interno del Colossio durante i Dei Pagani, dei Romani. E iniziano a sparare. Sparano anche a due bambini, uno di quattro anni e uno di otto anni. Sparano queste bestie di merda che per quanto mi riguarda, a queste cose non si reagisce con i gessetti. Si reagisce con le bombe, non con quelle di Alsisi, ma con le nostre bombe. Si prendono e si radono al suolo. Questi non sono esseri umani. Chi uccide un altro uomo indifeso perché va a pregare, di qualsiasi religione sia, ma incidentalmente la religione in questo caso è quella nostra, quella cristiana, quella giudaico-cristiana. Bene, quando succede una cosa di questo tipo ti viene il sangue al cervello. Siamo in guerra, è inutile che facciamo finta di non esserlo. Eppure, come dice oggi Vittorio Feltri, Maiorino dice che non si tratta di una guerra di civiltà o di uno scontro di religione. No, e di che si tratta? Gli stavano antipatici i cristiani che erano tutti quanti in quei pulma per andare a fare un pellegrinaggio nella loro chiesa. Di che si tratta, caro Maiorino, se non di una guerra di religione questa? E come ci difendiamo da una guerra di religione? Questo può essere il punto, su questo possiamo non essere d'accordo. Capire come ci si difende, capire come attaccare, capire con chi trattare, su questo possiamo essere d'accordo. Ma non sul negare il fenomeno, siete esattamente come quegli italiani che negavano l'esistenza delle Brigate Rosse e che ne hanno dato una grande forza. Vi ho citato Feltri su Libero, che fa Islam Macella 35 Cristiani, la stampa anche questa la mette nell'occhiello e come vi ho detto su Repubblica non c'è neanche una notizia in prima pagina. Grandi, grandissime notizie invece ci sono su G7. La cosa fondamentale è che Trump ha detto ai tedeschi, alla Merkel, in faccia, una cosa che tutti quanti noi europei sappiamo e diciamo alla Merkel, solo che lui gli ha detto da americano, ha detto cattivi, molto cattivi sul commercio. Come voi sapete nel famoso trattato di Maastricht si devono rispettare certi parametri. Quelli che riguardano l'Italia li conoscete bene a memoria, cioè il deficit dentro il 30% e il debito che deve tendere al 60%. C'è un altro parametro nel trattato di Maastricht, non sul trattato di Paperinic. Sul trattato di Maastricht c'è scritto che non devono esserci sbilanci commerciali molto forti, cioè un paese non può vendere nel resto d'Europa quantità enormi di bene e comprarne molto poco, perché quella porterebbe dei grandi sbilanci economici all'interno dell'Unione Europea. Esiste un paese che ha questo sbilancio? Sì, la Germania è enorme, qualcuno gliel'ha rinfacciato, qualche volta timidamente Renzi, ma il resto dell'Europa non glielo ricorda, ma è esattamente la stessa cosa, cioè vittima del loro successo, ma è lo stesso vincolo che dovrebbe avere l'Italia con il deficit. Eppure nessuno glielo rinfaccia. Arriva Trump a Taormina e gli dice scusami caro, a me non me ne frega niente di quello che fai in Europa, ma in America c'è uno sbilancio commerciale per cui vendi un sacco di roba in maniera cattiva e ne importi poca da noi. Questo no bueno, io non so se è giusto o se è sbagliato, perché ci possiamo mettere teorie economiche sui vantaggi comparati per ore e ore a parlare di questa cosa qua, ma il punto fondamentale è che Trump non gliela manda a dire, così come Trump non gliela manda a dire sul clima. Dice a me sta cosa che noi ci vincoliamo alle emissioni climatiche, posto che poi gli Stati Uniti sono gli unici che hanno raggiunto degli obiettivi di riduzioni di inquinamento superiori alle attese, bene, e questo è un dato, mentre noi ci vincoliamo con le mani e le braccia così Cina e India ci fanno un mazzo colà, allora dice io non ci sto, mentre gli europei dicono no, noi alle nostre opinioni pubbliche come gliela raccontiamo. Va bene, in questo clima in cui non vanno d'accordo su nulla, se non in una dichiarazione contro il terrorismo, ci mancherebbe altro che uno degli otto paesi, sette paesi più industrializzati del mondo che poi sono Canada, America, Giappone, Italia, Francia, ma come pensate che non si mettano d'accordo, almeno sul terrorismo? Allora si fanno una dichiarazione gerica sul terrorismo di quelle che non conta assolutamente nulla, nulla, e io oggi leggo sul Corriere della Sera un resoconto che dice la seguente cosa, va detto che il vertice non sarà un fallimento, ma io dico ma che cacchio è un fallimento allora? Se non è questo un fallimento non vanno d'accordo perché quello gli dice che siete cattivi, non si mettono d'accordo sul clima, non si mettono d'accordo su nulla, l'Italia fa una specie di documento finale che è una mediazione delle mie balle, l'unica cosa su cui vanno d'accordo è la condanna generica sul terrorismo per cui secondo me anche gli attentatori dell'Isis possono inventarsi sta balla e qua dicono va detto che il vertice non sarà un fallimento, ma come si fa a scrivere una cosa di questo tipo oggi? Io me lo chiedo ai miei colleghi, vabbè, anche perché sullo stesso Corriere è il grande solco dell'ambiente, Cina e India se ne fottono dell'ambiente, insomma lo stesso Corriere dava tutti gli elementi per capire che questo è un fallimento. Atteggiamento del Sole 24 Ore, Giano Bifronte, questo sarebbe Trump, ignorati i veri interessi degli USA, cioè il giornalista del Sole 24 Ore dice che l'atteggiamento di Trump ignora i veri interessi degli Stati Uniti che quelli del Sole 24 Ore invece conoscono bene, io dico quando io leggo ignorati i veri interessi degli Stati Uniti, io dico siete fantastici, dovremmo prendere i giornalisti e fare i presidenti della Repubblica, perché loro sanno i veri interessi dei popoli, noi siamo diventati talmente presuntuosi che sempre abbiamo gli interessi dei popoli più di quelli che sono stati eletti democraticamente dai popoli, il titolo del Sole 24 Ore è ignorati i veri interessi degli USA, mai così lontane le sponte dell'Atlantico, posto che poi mi sembra che ai tempi di Bush nella coalizione dei volenterosi non tutta l'Europa fosse insieme. Allora, il punto fondamentale qual è? Che il Sole dice che l'Europa è buona, buonissima e sacrosanta e che l'America di Trump fa schifo, insomma la solita attrazione tedesca del Sole 24 Ore, una cosa che forse un filo cambierei, perché è da osservatore esterno. Detto questo, mi sembra che il G7 sia come sempre inutile e in questo caso più che inutile divertente soltanto per la spaccatura, è fantastico oggi, se avete un po' di tempo leggetevi, l'unica cosa che vale la pena leggere su questo G7 perché ve lo spiegate tutto io, sono le foto che pubblica la stampa con i commenti sulle scarpe del Presidente del Consiglio, del Presidente canadese che manco, avete presente Verdone quando andava a fare l'emigrante che veniva in Italia dalla Germania e si vede solo lui che mangia i Wuster e poi si prende un Alfa Sud e va a votare in Italia e finisce tutta la scena dicendo vaffanculo, ecco vedete quel Verdone là e vedete come vestito il Premier canadese e dite sono la stessa persona, cioè non si può essere vestiti così male, oggi sulla stampa c'è un bello sfotto sulle vestiti, sulle mise di questi personaggi, l'unica cosa che diverte diciamo di questa cosa glamour perché di sostanza ce l'è poca, se non il grandissimo Trump che dice tedeschi siete cattivi, sembrava cattivissimo a me. Ultima cosa, l'Ilva è stata venduta, è stata venduta a sostanzialmente, ci vuole soltanto il timbro del Ministero agli indiani di Arcelor Mittal, uno molto forte questo signore che ha comprato l'Ilva, il pezzo migliore forse è quello di Sunseri o Sunseri oggi sul Libero in cui dice cazzo abbiamo distrutto un'azienda italiana, l'abbiamo sequestrata ai legittimi proprietari che sono in Riva in funzione di un processo che non è stato ancora neanche celebrato, non c'è ancora una sentenza, gli abbiamo espropriato l'azienda, negli ultimi tre anni le abbiamo fatto perdere 3 miliardi mentre fino a prima guadagnava un mucchio di quattrini, certo dicce l'accusa non investivano nel ripulirla, ma oggi perdendone tre certamente non hanno investito nel ripulirla, bene e che cosa facciamo? Togliamo un'azienda agli italiani, le facciamo perdere 3 miliardi, li facciamo pagare a voi, mettiamo la gente in cassa integrazione, dopo tre anni chi la vendiamo? Agli indiani, yes, così si sutela il patrimonio di un paese, cioè quella di fare acciaio con la quale si fa qualsiasi altra cosa, una imbecillità che fra dieci anni noi scriveremo, così come è stato imbecille pensare 50 anni fa che si dovessero fare al posto degli aranceti, si dovesse fare l'industria pesante nel mezzogiorno e oggi ne paghiamo le conseguenze, fra vent'anni pagheremo le conseguenze di aver distrutto già che c'era un'industria siderurgica fondamentale per l'Italia regalata agli indiani che prima o poi la chiuderanno. Ah no, ma c'è anche la marcegaglia. Guardate, sulla questione della marcegaglia a me viene da ridere, perché come sapete la marcegaglia può tutto, cioè se è diventata presidente del Leni la sorella di un signore, il fratello, che pagava le mazzette a Leni e ha patteggiato per aver pagato le mazzette a Leni, lei può tutto, può anche comprarsi col 15% non sborsando una lira e con un'azienda che va male, confondere i debiti con una cosa più grande, questa è la grande strategia della marcegaglia, ci sarà riuscita. Comunque la storia dell'Ilva la racconteremo fra vent'anni, c'è poco da ridere perché questo è un paese che piano piano perde i suoi pezzi e il costo di tutto questo lo vedremo purtroppo nei prossimi anni. Detto questo per oggi è tutto, ragazzi qualcuno di voi mi chiede di fare commenti sul Conte Mascetti, cioè il campo dall'orto che si è andato via dalla Rai, insomma ne ho fatto per un anno una battaglia contro le sue assurde gestioni, non vorrete aspettavo lì, alla fine sul fiume, basta, basta. Voltiamo pagina e speriamo che la Rai venga gestita da qualcuno che riesca a gestire i nostri, i miei, i vostri soldi un po' meglio. Ciao!